Buongiorno a tutti, sono Flavio e sono aiutenologo della ditta Delea e ci troviamo qua oggi per assaggiare insieme il momo bianco. Questo vino è prodotto 100% con uve merlot nella zona del Mendrisiotto e l'uva quando arriva in cantina viene diraspata e mandata direttamente in pressa. Quindi la fermentazione avviene nelle vasche in acciaio senza le parti solide della bacca. Finita la fermentazione il vino viene sfacciato e continua il suo periodo di affinamento sempre nelle vasche in acciaio. Finito questo periodo il vino viene stabilizzato, filtrato e imbottigliato. E adesso direi che andiamo ad assaggiarlo insieme. Il colore risulta un bianco carta con dei riflessi verdolini. Al naso, andiamo a sentirlo, ha un profumo fresco con note fioreali e di frutta bianca. In bocca ha una bella sapidità, è persistente e intenso. Ottimo sicuramente sia in una cena che anche in un ottimo aperitivo. Salute! Ciao! Ciao!